Ennesimo incidente mortale sulla strada statale 115, teatro dell'impatto fatale, stavolta è stato il tratto Gela-Manfria. Nello scontro tra una Vespa 125 con a bordo il 17enne Stefano Ascia e una Ford Fiesta con all'interno due coniugi licatesi che si stavano dirigendo a Gela, a perdere la vita è stato il giovane gelese. L'altro giovane a bordo del ciclomotore ha invece riportato la frattura di una gamba. Ironia del destino, proprio ieri il giovane che ha perso la vita, aveva compiuto il 17esimo anno di età. Ascia sarebbe morto sul colpo. Subito dopo l'impatto, sul posto si sono recate le ambulanze del 118 in servizio presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela che hanno trasportato al nosocomio sia l'altro giovane rimasto ferito nel sinistro stradale che la coppia di coniugi licatesi sotto sciocco dopo il tragico scontro. A causare il terribile incidente potrebbe aver contribuito alla condizione dell'asfalto reso viscito dalla pioggia caduta nella giornata di ieri. Sul posto per i rilievi di rito si sono portati gli agenti di polizia che stanno provando a ricostruire la dinamica. Un altro incidente, ancora una volta in una giornata di pioggia, sempre sulla statale 115.